Tante cose, ringrazio tutti quelli che mi hanno appoggiata come Presidente dell'Associazione e anche come Maria Roberta Franco. Colgo l'occasione per mandarvi anche i saluti di mio padre, che molti sanno che è stato poco bene. Grazie. Grazie, Roberta e Bruno di che siamo anche. Grazie, Roberta adesso si intrattene con noi con Bruno questo momento coreografico e di musica, dopodiché andremo all'ultimo progno di prevenzione. Prima di iniziare io vorrei legarmi a coro delle considerazioni fatte al professor Estegano. Prima cerchiamo veramente, io non sono di Rocella, però è uno dei paesi che mi stanno qui era puoi. Grazie a tutti.